lisa accediamo al suo rifugio come skin ha optato per questo personaggio femminile con richiami nero e oro ha fatto lo stesso con la sua motocicletta che si chiama apollo futuristico ha una mimetica in movimento ha richiami nero e oro e delle sfumature azzurre sembra una sfilata di moda ma anche code è moda passiamo al suo equipaggiamento ci vuole mostrare due armi diamante tra questo l'M13 molto bello si chiama copertura segreta ci mostra il suo AK117 diamante chiamato pop idol con mimetica stampata con personaggio anime ci mostra la sua arma che la sua pistola è un j35 b o 58 scorpione è una pistola che si vince con giocando nella modalità zombie è l'ultima arma che ci vuole mostrare il suo dlq capitano spaziale guardate che bella ha scelto queste sono le armi che ha scelto la nostra amica elisa se vi piace il suo rifugio cliccate sì se non vi piace cliccate no sarete voi a scegliere quale il rifugio più bello poi faremo un video in cui cioè si possono fare anche le sfide si possono fare anche le sfide rifugio contro rifugio va bene abbiamo mostrato quattro rifugi